oh buongiorno e bentornati secchi di merce è la prima volta che capitate qua benvenuti sul mio canale io sono il vostro man fisico fiducia nonché miglior giocatore di clash of clans sulla piattaforma mi pare che tu sia terzo in italia allora oggi cosa facciamo oggi andiamo a insegnare a un classic a danny non so se lo conoscete già però nel caso vi lascio il suo canale in descrizione faccio video è nuovo in questo settore e oggi vado a insegnare a un classic come un man fisico allena le gambe infatti il workout partirà in modo molto particolare per essere un elemento di gambe si è pronto è ora di andare a distruggere danny ragazzi andiamo in palestra ci becchiamo una posterina nel pregitto e ci becchiamo direttamente sotto i pesi bella oga mi allora direi che è giunto il momento iniziare con il nostro leg day facciamo provare a un un mille classic all'allenamento di gambe di un man fisico quindi lo demoliamo oggi primo esercizio alzate laterali quindi partiamo con tre serie verso il cedimento di alzate laterali facciamo le 12 15 rep raggiungendo sempre il cedimento successivamente poi ci spostiamo a fare le alzate laterali e alzate y ai cavi e direi che adesso chiudiamo la bocca ci vediamo direttamente alle gambe di una bella assicurando in ponder emozioni in my head i give up no matter what i do or not here no i try so hard to stop by giving to every single bad tentations bravo di devi smettere ma fra i messi zitti stai zitto stai zitto perchè fai messi zitto quelli non le vedranno mai le persone metto le foto su instagram metto le foto su instagram devi smettere di fai messi zitti andate al classico a 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 safety e anche se abbiamo basse rap con un carico abbastanza gestibile meglio non rischiare quindi facciamo a molti mettiamo blocchi e ci alleniamo divertendoci ma senza farci troppo male Sento che mancano le ginocchiere tra l'altro abbiamo dimenticato sia io che den come due stupidi perché sapevano di dover far gambe ma le mie ginocchiere sono rimaste nello zaino il primo allenamento senza ginocchiere da quando sono uscite quelle di kaiser letteralmente un 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 2, 2, 3, vai, vai, 2, vai, 3, si, facile, vai, bello, facile, come va a te? Sì, bello, sì, fraisi, 1, vai, 2, vai, ancora, su, 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 bello, ce l'ha ancora, bello, ce l'hai, su, facile, vai, che ce l'hai, su, su, forza, bella, bella, molto facile, il problema, sono queste luci, ti metti qua, sei veramente sparaclinciato, non si vede nulla, se ti metti lì, è al buio, e non si vede nulla, quindi è un po' un problema a registrare il video, dal vivo è molto bella, perché le luci sono belle, dovremmo appunto che c'è proprio troppa differenza tra troppa luce e niente luce, però buono, ce la facciamo bere bene lo stesso, è pure piena quest'ora, devo vedere se è successo. Allora, ci siamo acquistati, abbiamo finito il scopo, dato che non abbia le ginocchiere, tengo il peso di bullore un pochino più basso, quindi al posto dei soliti 40 kg, oggi facciamo 36, anche perché ho paura di sfondarmi le ginocchia, perciò è meglio fare qualche chilo in meno, piuttosto che rovinarsi mesi e mesi. E faccio da quattro anni. Dopo tre esercizi più brutti di sempre, Fred. Ha randomicamente saltato su una gamba con 72 kg in mano. No, no, veramente stanco. Ancora due serie e poi ci rilassiamo in leg extension. O mini fisici. Lo vogliamo vedere, Danny, come va in fisica. Vai, Dio, due, tre, vai. Tre, quattro, esercizi, vai. Cinque, sei, sette, otto. Vai. 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 Bello. Bello. Direi che la parte pesante che oggi è andata, adesso saliamo, siccome è su due piani la palestra, ci facciamo tre serie di leg extension, la cedimento, e tre serie di leg curl, la cedimento. E poi direi basta, perché siamo veramente demoliti. e andiamo a fare lo shooting di Kaizen. Dei piedi. Oh, yeah. Mi borda è andata, E poi ci faccioare la cedizione到了 della cedoga. stanno uscendo le vene che avrò in prezzo no il maciucca c'è baciuccio leg curl che culo pippo madonna io come mi alleno con lui direi che può finire il bisonte andiamo a fare la doccia insieme allenamento finito demoliti direi che ci siamo? ci siamo non era un allenamento solito con i consigli era semplicemente un allenamento in amicizia un allenamento di giubilo no l'uomo classico l'uomo classico contro l'uomo fisico contro insomma confronto gambe da uomo classico e da uomo fisico non abbiamo più niente a dirvi io spero il video vi sia piaciuto almeno l'abbia fatto ridere o qualcosa anche perchè non si vede tutti i giorni un fisico brutto come questo vi ricordo di iscrivervi al canale e di supportarmi sul sito dei kaizen sempre e noi direi che ci vediamo al prossimo video bella grazie